Alimentazione salutare, fare attività fisica, tenersi lontano da fumo, alcol, farmaci, sostanze dopanti e droghe, promuovere una cittadinanza attiva, educare, all'affettività e alla sessualità, tutelare la salute mentale. Sono i principali obiettivi di un protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale. Il protocollo rende operativo a livello locale i programmi nazionali, guadagnare salute e benessere dello studente. Si tratta di un'azione, ha detto l'assessore alla salute Attilio Martorano, diretta a fronteggiare la crescente diffusione di malattie croniche legate a comportamenti dannosi acquisiti in età adolescenziale. Abbiamo la necessità di confrontarci col sistema scolastico e di costruire con esso le giuste azioni per arrivare a spiegare ai nostri ragazzi quali sono i rischi che un errato stile di vita o, ancora peggio, l'utilizzo di sostanze quali alcol, droghe, sostanze dopanti può produrre alla loro salute e anche al loro sviluppo nella fase della crescita e della loro formazione.